Il Comune di Agropoli, tramite l'Unione dei Comuni Alto Cilento, che è il braccio operativo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, lancia una nuova campagna di comunicazione per la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, denominata Differenziati Conviene. Tra le novità, l'eliminazione delle campane per la raccolta del vetro, che verrà operata porta a porta, un giorno in più per il conferimento del multimateriale, mentre si riduce ad un giorno quello dell'indifferenziato. Inoltre la presenza di due vigili urbani che controlleranno sui conferimenti fuori orario e non eseguiti nel modo giusto. I trasgressori saranno puniti con multe salate fino a 500 euro. L'ente di Piazza della Repubblica invita tutti i cittadini a conferire nella maniera giusta, seguendo in maniera puntuale il calendario di raccolta, perché una raccolta differenziata fatta nel modo giusto porterà a tagliare il costo della bolletta Tari. Il Comune chiede collaborazione anche alle attività commerciali affinché non conferiscano alcun rifiuto il sabato sera, in quanto la raccolta non verrà operata la domenica. Questo è il nuovo calendario che prenderà il via il prossimo martedì 17 marzo. Lunedì organico, martedì multimateriale, plastica, lattina e carta, cartone. Mercoledì organico e vetro, giovedì multimateriale, plastica, lattina, carta, cartone. Venerdì organico, sabato secco indifferenziato. I rifiuti vanno depositati dalle ore 22 alle ore 24. Dopo diversi anni di raccolta porta a porta nella città di Agropoli, spiega il sindaco e presidente dell'Unione dei Comuni Alto Cilento Franco Alfieri, ci siamo accorti che è possibile dare più efficienza al servizio, che prevede la riduzione a un giorno dell'indifferenziato e con un giorno in più per il multimateriale. Ci auguriamo che un nuovo vigore in termini di rispetto dell'ambiente, di consapevolezza che per la difesa dell'ambiente a contare il singolo, che detta il successo dell'organizzazione e aggiunta una nuova voglia di fare di più e meglio, possa portare un risparmio per il Comune in prima battuta, ma conseguentemente anche per i cittadini. Perché, conclude, l'ente ha l'obbligo di coprire il 100% dei costi e quindi un'eventuale economia sarà solo a vantaggio dei cittadini. L'obiettivo, afferma l'assessore al porto ed emanio Massimo Laporta, è aumentare la percentuale di raccolta differenziata passando dall'attuale 50% al 65%.